Allora, Dell, funzionerà? Forse, voglio dire, la vecchia tecnologia COG era fatta per durare, quindi dovrebbe avviarsi. Bene, allora troviamo la stazione di controllo e facciamolo partire. Ma è una buona idea attivare questo? Cioè, sul serio, guardatelo. Che strano, hanno lasciato un fabbricatore qui. Ah, mi chiedo se funzioni ancora. Capito! Andiamo, siamo a cavallo! Sì, ottimo, abbiamo acceso le luci. E allora perché non è partito il motore? Ehm, bella domanda. Mancherà carburante, proviamo a passare al serbatoio di riserva. Ok, come possiamo farlo? Dall'altra parte, sul ponte inferiore. Ci penso io. Resto qui, lo accendo quando hai fatto. Forza, puttana! Arva a terra! Odio quelle cose. Siamo a posto, accendilo! Non andrà! Ecco fatto! Andiamo giù! Te lo ricordi che ci stiamo addentrando in un nido gigante di mostri, vero? Beh, devo ammettere di essermene quasi scordato per l'entusiasmo. A proposito di mostri... Abbiamo un fabbricatore, no? Fortifichiamo il ponte di controllo, è difendibile. Proteggiamo i punti deboli. Sì, va bene. Mi hai convinto a difendibile. Ragazzi, avete sentito? Che cavolo succede? Merda, quei damnati tentacoli si stanno incastrando negli ingranati. Ci abortano! Merda, dobbiamo tenere questo ponte! A sinistra, arrivano! Merda! L'arve in arrivo! L'arma a terra! Con guallazione! Bene! Ritorna nella tua capsula! Ecco! Capito! L'arma a terra! Oh no! Altre larve! L'arma in me! Wow! Non lo so! 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 Merda! Altre larve in arrivo! Capito! Arrivano! Estanno entrando a sinistra! Ci circondano! Ce n'è un mucchio qui! Aiutami! È morto! Ora vanno a me! No, è finita! Sono certo che ne vedremo altre! E allora costruiamo altre difese! Rendiamogli le cose più subottimali possibili! Wow! Se continui a parlare così, Jim potrebbe farti il secondo tenente! Davvero? Preferirei morire in un incendio! Ci abbordano di nuovo! Ehi, da destra! E ora ci sono i droni! Granata! Ho un drone! Capito! Vieni qui! Dove vai? Prosto! Capito! Niente! Occhio! Oh merda! Tieni qui! JD, aiutami! Aiutami! Aiuto! a sinistra attenzio a quei droni ladietro hanno archi torche Mi sa che abbiamo stuzzicato un bel Vespai. No, l'abbiamo stuzzicato, usato come pallone e poi come cappello. Ne arrivano ancora. Dobbiamo fortificare il ponte. Ci stiamo fermando. Dale, che succede? Ah, merda, quei dannati tentacoli hanno surriscaldato il motore. Arrivano per un altro round! Bene, sapete che fare. C'è dello sciame a sinistra! Oh no, altre larve! L'arma a bordo! Pronto all'azione! Accio droni! Guarda, sulla destra! Guarda, sulla destra! Guarda, sulle! Guarda! 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 È morto! Capito! Qualcuno mi aiuti! Capito! Guarda! Granata! Non prendo un altro! Non prendo un altro! Capito! Ci sono altri droni! Bene! Per affreddarsi. Siamo bloccati qui! Elimina quei cacciatori! Ci circondano! Ci circondano! Come pensavo! Perfetto! 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 Il drone è morto! Seggeremo ancora molto! Dobbiamo far muovere questa cosa! Riattiviamolo! Aspetta! Non funzionerà! Quei tentacoli hanno surriscaldato il motore! Senza raffreddamento non andiamo da nessuna parte! Fantastico! E ora? Troviamo la sala macchina! Troviamo la sala macchina! Tiro è indovinare! Parli delle grosse ruote sul muro! Vedo che tutti quei corsi di ingegneria meccanica sono serviti! Ehi! Va all'altra valvola! Ecco! Speriamo funzioni! Lasciamo lavorare il refrigerante! Brevi! Ci muoviamo ancora! Oh oh! Avete sentito? Sembra che non sia ancora finita! Forza! Oh merda! Ci sono dei Bowser! Corti. E' guardata! Mir sequestri! Attranto! In arrivo! Brassi! Poi! Portami la tua cassa! Toglietelo di dosso! Questa piattaforma continua ad accelerare! Che cazzo succede? Non lo so, non lo so! La sistemi? Come faccio a sistemarla se non so che succede? Marta! Che cosa è successo? Non lo so, ma non mi è piaciuto! Via! Marta! 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 Ci schianteremo! Ehm... 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 Prova il freno d'emergenza! Dove? Nel altra parte della piattaforma! Abbiamo tempo! Vedo il freno! Io merta! Levati di mezzo, cazzo! Vai, non ha funzionato Stiamo per morire, vero? Sì, moriremo di sicuro Tenetevi forte! I freni funzionano Funzionano ancora, dopo tutto questo È incredibile Ok, ragazzi, è andata Sì, è un figlio di puttana Ok, tutto a posto Incredibilmente sì Abbastanza bene Proviamo mio padre Grazie a tutti